problemi del tre composto i problemi in cui figurano almeno tre grandezze variabili legate tra loro da una legge di proporzionalità diretta in cui la variabile x e y crescono o decrescono nella stessa direzione o proporzionalità inversa in cui ad esempio la x cresce e la y decresce si dicono problemi del tre composto si risolvono scomponendo in due o più problemi del tre semplice e andiamo a vedere come problema del tre semplice diretto con grandezze direttamente proporzionali un ciclista ha percorso 700 chilometri in quattro giorni pedalando 5 ore al giorno quindi la prima variabile è 700 chilometri la seconda variabile quattro giorni la terza variabile 5 ore al giorno quanti chilometri percorre quindi prima variabile alla stessa velocità pedalando per sette giorni seconda variabile seconda variabile e pedalando quattro ore al giorno terza variabile dati 700 chilometri percorsi quattro giorni di viaggio cinque ore il tempo per cui pedala ogni giorno l'incognita numero di chilometri da trovare se vengono percorsi in sette giorni e le ore in cui ha pedalato sono due per ogni giorno un ciclista ha percorso 700 chilometri in quattro giorni pedalando per cinque ore al giorno quanti chilometri percorrerà in sette giorni pedalando per due ore al giorno la stessa velocità la risoluzione indichiamo con x e il numero di chilometri richiesti utilizzando i dati forniti dal problema costruiamo la seguente tabella chilometri giorni giorni ore 700 chilometri 4 giorni 5 ore poi x chilometri da determinare 7 giorni 2 ore scomponiamo il problema in due problemi del 3 semplice problema 1 e problema 2 problema 1 chilometri 700 e poi x giorni 4 e poi 7 e il numero di ore invece si tiene costante in tutti e due casi quindi un ciclista percorre 700 chilometri in quattro giorni con un numero di ore che si suppone costante quanti chilometri percorre seconda variabile incognita in sette giorni con il numero di ore costante indichiamo con y il numero di chilometri da trovare quindi i chilometri passano da 700 a y i giorni da 4 a 7 le due grandezze sono quindi direttamente proporzionali cioè al crescere di una cresce anche l'altra quindi possiamo scrivere la proporzione 700 sta ad y come 4 sta a 7 quindi esplicitando y è uguale a 700 per 7 diviso 4 uguale 1225 chilometri a questo punto utilizziamo questa informazione per risolvere il secondo problema per cui un ciclista percorre 1225 chilometri pedalando 5 ore al giorno e quindi ipotizzando costante il numero di giorni quanti chilometri percorre seconda variabile pedalando per due ore al giorno sempre tenendo fisso il numero che si suppone costante quindi x il numero di chilometri da trovare quindi 1225 e x numero di ore al giorno 5 e 2 le due grandezze sono direttamente proporzionali quindi possiamo scrivere la proporzione x è uguale a 1225 per 2 fratto 5 che uguale a 490 e è la risposta del problema il ciclista percorrerà 490 chilometri percorre il ciclista 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 percorre il